E la Basilicata sbarca in Cina, precisamente a Pechino, dove è in corso una campagna di promozione dei prodotti agroalimentari lucani, in attesa di una fiera del settore che si terrà a Rimini. L'interesse dei cinesi è rivolto soprattutto alle fragole del metapontino e della fascia ionica. Daniele Guido Gessa. L'agroalimentare lucano riscuote successo persino in Cina e a Pechino si è tenuto un incontro al quale hanno preso parte i buyer del grande paese asiatico. Sempre più un mercato di riferimento per i prodotti tipici italiani. L'assessore regionale all'agricoltura Luca Braia è così atterrato nella capitale orientale per andare a illustrare agli operatori le qualità di frutta e verdura in arrivo dalla Basilicata, con un'attenzione particolare tutta dedicata alle fragole del metapontino. L'occasione a Pechino è stata quella della presentazione del McFruit, fiera del settore che si terrà dal 10 al 12 maggio a Rimini. Un'edizione che vedrà la Cina come paese partner in quanto mercato di riferimento del kiwi italiano e la Basilicata come vetrina della sua fragola, una produzione che fa essere la regione prima in classifica in Italia con circa 1000 ettari dedicati. L'evento di presentazione è stato organizzato dalle autorità italiane in Cina e dal Ministero dell'Agricoltura della Repubblica, popolata da un miliardo e 400 milioni di persone. E a Pechino si è parlato anche di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 perché produzioni tipiche del territorio e turismo devono andare sempre più a braccetto, soprattutto di fronte ai grandi flussi di visitatori in arrivo dalla Cina verso l'Europa.